Il Vescovo di Livorno, Simone Giusti, alla vigilia di una nuova trasmissione TV. Che parte già in diretta martedì alle 19.30, il primo ospite sarà proprio lei, Monsignore, e affronterà diversi temi. Ma già il titolo è significativo, si fa sera, parliamone. La trasmissione è curata naturalmente dall'Ufficio Comunicazione della Diocesi e dalla redazione della Settimana Tutti i Giorni, il quotidiano online. La stessa redazione che segue anche la Settimana in TV, il programma che ha tanto seguito proprio su Gran Ducato. Allora, si fa sera, parliamone, ma di cosa? Di tutto quello che sta avvenendo nella nostra vita e nella nostra città. Soprattutto però mi interesserebbe parlare della nostra vita, di noi, delle nostre ansie, delle nostre paure, delle nostre solitudini, delle nostre inquietudini, delle nostre gioie, dei nostri desideri. Parliamone. Io vedo che quando attraverso la città, cammino in città per i vari eventi, la gente ho fatto per fermarmi e chiedermi, posso parlare con lei? E ho volentieri, solamente che sono 160.000 persone in città e in tutta la diocesi oltre 200.000 persone. Come si fa? Ecco, vorrei parlare con i tanti che seguono Tele Gran Ducato e tramite le telefonate che potranno arrivare, dialogare, parlare. Ecco, i temi credo che sarebbe bene li suggerissero i nostri ascoltatori, la nostra gente. Io sono disposto a parlare di tutto perché credo che se ci si parla, ci si comprende, ci si capisce e si può fare del bene insieme. C'è però già un primo argomento per la prima trasmissione, insomma una cornice entro a cui riflettere. Sì, certo. Quello che emerge da tanti rilevamenti anche qui nel nostro territorio è che c'è tanta solitudine. Mai connessi come ora, il nostro prossimo che è diventato è cellulare, ma la persona è a distanza, c'è tanta solitudine e vorrei parlare allora di come vincere questa solitudine. E' evidente, se uno sta sempre a pensare, nessuno mi considera, nessuno mi vuole bene, guarda lì, cosa ho fatto per i miei figlioli, cosa ho fatto e ti deprimi. Mentre invece se pensa a far del bene, ti curi. Come si esce dalle nostre situazioni difficili? Non ragionandoci troppo, ma donandosi. La cura dell'altro ti cura. Allora vorrei cercare di camminare con i tanti nostri concittadini, nel cercare che torni il sorriso, anche nelle situazioni più disperate. La novità è che la trasmissione sarà di mezz'ora, circa, settimanale. Ogni martedì alle 19.30 avrà diverse repliche e proprio la prima volta ci sarà lei in diretta. Allora, io mi sono preso l'impegno di essere presente una volta al mese, così anche se arrivano in redazione a Telegram Ducato domande, oppure sui social della diocesi, domande... C'è anche un'e-mail, questa che vediamo scritta in sovrimpressione. Si ha la possibilità di farmi tutte le domande che vogliono. Voglio ricevere tutti i Livornesi, in una maniera un po' diversa, singolare, voglio riceverli tramite la televisione, ma voglio riceverli, parlare con loro. E per cui, certamente, che io ci sarò una volta al mese, salute permettendo, se no si recupera, a volte, sai, raffreddori o dalle libecciate possono sempre venire, ma ci saranno anche tante altre persone, perché se no, dai, sempre tutte le settimane il vescovo in televisione viene anche a noia. Lei in questi giorni ha incontrato anche tanti giovani, quei ventenni a cui ha rivolto una lettera pastorale. Che impressione ha avuto sulla loro voglia di essere ascoltati? Sono giovani che partono col freno a mano, sempre un po' intimoriti e sono timidi. Poi, quando ci parli, si sciolgano e nasce subito un dialogo, nasce anche una simpatia e mi dicono cose grandi. Ad esempio, un giovane mi ha detto che era andato a fare volontariato per fare du palanque, du sordi. Se ne prende pochi al volontariato, qualcosa si prende però. E invece, stando con le persone più povere, più bisognose, prima ha scoperto che sono persone normali, ma il suo nonno, come qualunque altro vicino. Secondo, ho ritrovato me stesso. Paradossalmente, smettendo di pensare in maniera egoistica a se stesse e donandoci, ci si ritrova. Ascoltare, essere ascoltati. Poi qualche altro tema che verrà trattato? Ah, ma se ne tratta di tutti, di temi. Per esempio? Ad esempio, se andrà a trattare il tema dei miracoli. E allora, Montenero. Ma a Montenero che c'è l'Arabona, un campo magnetico particolare. Perché a Montenero avvengono, tutt'ora, eh, tutt'ora, voi lo sapete bene, perché stanno avvenendo tutta una serie di fatti, di fenomeni. Io voglio una scienza libera e laica che mi analizzi i problemi. Una commissione di inchiesta, si fa commissione di inchiesta su tutto, ma su Dio no, sull'agire di Dio no. Ecco, una bella commissione di inchiesta su quello che sta avvenendo a Montenero. E se fosse una Stairgate, una Porta delle Stelle, e da lì c'è un filo diretto Livorno Paradiso? E interroghiamoci. Qualche altro tema? Qualche altro tema? E siamo ormai, gente, io sono dieci anni e sono a Livorno. Allora parleremo dei miei dieci anni, cose positive, cose negative. Quando sarà l'anniversario particolare? Il 10 novembre. Sono dieci anni che in Cattedrale di Livorno ci fu uno striscione enorme, Livorno presente, con la marea di Livornese, e da lì è cominciato un filo. Questo appisa per la sua ordinazione? Per la mia ordinazione. Poi il 2 dicembre quando entrai. E devo dire che, sinceramente, sono stato ripagato in questi anni da una marea d'affetto da parte di tutti i Livornesi. E devo dire che il Livorno ha dei numeri, eh. E se lo dice un pisano è tanta cosa. Come se l'aspettava? No, no. Sono venuto un po' contratto. Perché io credo che anche i Livornesi, ma non ho accorto con stupore. Mi ricordo la locandina del Pernacoliere. Sono venuto un po' sulle mie. Dice, ma speriamo che Dio me la mandi buona. E devo dire che non solo me la mandata buona, ma davvero mi sento a casa. Ora lo stesso giornale scrivere unicamente che lei suonerà le campane all'eventuale prossimo allarme di protezione civile. Allora, in passato il campanone del Domo faceva questo. Faceva questo. Allora, è il caso, ce lo chiederà la protezione civile, che di ritorna a Santi Vecchi, che quando c'è i grandi pericoli, come in passato le campane suonano a distesa della città, subito, basta che me lo chiedano, lo farò volentieri. E non faranno gau, faranno don don, come tutte le ampane di Livorno. Lei certo non si è mai sottratta ad interventi sulla vita sociale, civile, anche politica. Ma questa trasmissione ha un taglio diverso. No, no. Vorremmo affrontare tante questioni. Vedete, chi è il Vescovo? Qui siamo nella sala dei Vescovi con tutti i miei predecessori. Ma chi è il Vescovo? È un padre. È un babbo di chi si interessa? E si interessa dei figlioli. Si interessa della salute, ecco l'ospedale. Si interessa del lavoro, ecco i miei interventi sul lavoro. Si interessa dell'alluvione. E vorrei vedere, tu ci avessi un figliolo vicino a Riardenza. E che fai? E dormi tranquillo? E si ritorna una bomba d'acqua? Di cosa ti preoccuperesti? Che non succeda mai più. È quello che sto cercando di fare. E sul porto potrebbe diventare la grande industria, la Fiat di Livorno. Ma che è un babbo deve preoccuparsi che ci abbiano lavoro, casa, salute. E quello che cerca di fare un Vescovo. Nella tragedia dell'alluvione è venuto fuori anche il bel volto dei Livornesi. Sì, ma questo si sapeva. Questo si sapeva. Non si sapeva che soprattutto i giovani hanno questo bel volto. E questo fa onore alla città e a tutti noi. Lei cosa chiederebbe da casa, davanti alla televisione, a un Vescovo qualsiasi che magari parla dell'ascolto martedì sera? Fermati e parliamo. È quello che voglio fare. Fermarmi dal mio correre in mezzo a tutta la diocese e parlare. Le questioni le sai tu quali sono, ma anche le critiche. Sono ben pronto anche a rispondere a tutta una serie di osservazioni. Ieri sera ho incontrato un sacerdote che mi aveva mandato una bella lettera in quale mi faceva riflettere su alcuni miei modi di fare. Mi brontulicchiava un po', ma in maniera paterna. Bella. L'ho ringraziato. Chi sono gli amici veri? Chi ti dice Vescovo, l'è bravissimo? Vabbè, ci sarebbe un proverbio chi ti loda? Non voglio andare oltre. Gli amici veri sono quelli che con bontà e delicatezza ti dicono dove stai sbagliando. Questi sono gli amici veri. Credo di averne tanti qui a Livorno. La Chiesa sa ascoltare o deve ancora un po' lavorare in questo senso? Il Papa usa un'immagine, un ospedale da campo. L'ospedale da campo si fa sui luoghi di battaglia, delle emergenze, delle alluvioni, dei terremoti, per andare a incontrare le persone e ascoltarle. La Chiesa deve imparare sempre di più. A volte, a volte, è un centro di distribuzione di servizi, comunioni e pacche. Deve un po' uscire un po' fuori, come dice il Santo Padre. Se poi venisse una volta a ribadircelo, ne sarei solo contento. Allora, ricordiamo, da martedì in pratica raddoppia la presenza sua e comunque dei suoi collaboratori in televisione. Il venerdì alle 19.30 c'è la prima messa in onda della settimana in TV. Tre giorni prima. Il martedì c'è questa trasmissione. Si fa sera, parliamo, è un taglio, l'abbiamo detto, molto diverso. Nella prima trasmissione ci sarà la indiretta con Chiara Domenici, che la intervista, ma insomma con le sollecitazioni della gente da casa. Speriamo arrivino. Questa è l'email, la rimettiamo in sovrimpressione. Facciamo un ultimo appello. Arrivederci a martedì di sera.